Amici di Arizona TV e amici della Settalese, siamo qui presso il campo Martinelli a presentare il primo giorno di ritiro di allenamento della squadra del mister Zecchillo. Musica Sappiate che io non sono un allenatore di quelli che rompe i coglioni con i metodi, la tattica, ossessiona, no, sono uno per il confronto, uno che sa ascoltare, uno di voi, su una cosa non transigo, il rispetto e l'educazione, proprio anche l'educazione nel modo di imporsi e soprattutto i valori fondamentali per me di una squadra sono i valori umani, vale a dire io voglio un gruppo veramente unito, ma nel vero senso della parola, qui non c'è gioca uno, gioca l'altro, sto metto il muso, no, no. Qui a Settala siamo tutti un gruppo, tutti una squadra, si vince, si perde tutti insieme, oggi gioco io, domani non gioco, dopo domani non gioco, dopo domani ancora non gioco, il mister non mi fa giocare, non gioco per una serie di motivi, poi gioco, funziona così, questo è fondamentale. Mister Gabriele, siamo al primo giorno di preparazione, ci sono tutti i ragazzi oggi? Allora, no, oggi per la seduta diciamo che mancano parchi effettivi che arriveranno, diciamo così, da lunedì, dove veramente con le sedute di lunedì saremo al completo, oggi abbiamo tanti ragazzi perché siamo qua, è una ventina, però diciamo che mancano 6-7 elementi che si aggiungeranno appunto a parte da lunedì. Abbiamo sentito che l'allenamento è strutturato in doppia sessione per circa 5 giorni, quali sono gli obiettivi che ti sei prefissato in questa preparazione? Ma allora, abbiamo preferito fare queste doppie sessioni fino a mercoledì proprio per cercare di integrare e conoscerci al meglio soprattutto per i nuovi arrivati che sono soprattutto giovani, quindi ragazzi del 2003, 2004 e 2005, dove magari il passaggio dalla Juniors o addirittura dall'Under 18 ai grandi può essere un pochettino più problematico, anche proprio non tanto di campo, ma anche come a livello relazionale e a livello umano, visto che io tengo particolarmente a quello che è lo spirito, il gruppo e quelle che sono le relazioni umane, i rapporti, le doppie sedute sono focalizzate prevalentemente per stare il maggior tempo insieme. Perfetto, campagna acquisti, l'abbiamo chiusa? Sì, direi di sì, campagna acquisti chiusa al 99,9%, potrebbe esserci qualche apertura magari su qualche giovane, qualche under che può essere lasciato da parte in qualche eccellenza, qualche serie D a settembre, se capiterà l'occasione sicuramente non ci faremo trovare impreparati, però attualmente non sono previsti altri innesti. Questa è la rosa. Prima partita programmata di allenamento o amichevole? Sì, facciamo un allenamento congiunto giovedì contro una squadra di prima categoria, l'Atletico QCM, è un modo proprio per staccare un po' dalle doppie sedute, per vedere i ragazzi, per dar modo loro di sfogarsi, di riprendere confidenza col campo, sarà una sgambata che faremo qua la sera alle 20 e sarà la prima occasione per vedere comunque all'opera le potenziali qualità di tutti i ragazzi e dei nuovi arrivati, soprattutto. Dai un messaggio ai tifosi? Per i tifosi posso assicurare che quest'anno sarà il giusto proseguimento dello scorso anno. Vedremo una settalese che darà battaglia su tutti i campi, che cercherà di fare un bel calcio, ma soprattutto che darà un'immagine seria, sportiva, di educazione dei ragazzi, che è una cosa alla quale tengo particolarmente e so che anche la società e anche il comune e tutto l'ambiente tiene particolarmente un'immagine importante che porteremo alta su tutti i campi e sperando di abbinarci anche delle vittorie e delle grandi soddisfazioni. Marco, primo giorno di preparazione, come ti si è organizzato la giornata? Allora, la mattina abbiamo fatto un riscaldamento proprio cittivo e abbiamo cercato di andare ad attaccare il fatto che sono fermi da tanto tempo, tutte le estate, sono tre mesi, e poi abbiamo fatto un lavoro aerobico abbastanza importante. Adesso è una partita alla finale dove i ragazzi si possono anche divertire. Questo è l'allenamento di stamattina. Mentre nel pomeriggio faremo un lavoro incentrato più sulla prevenzione degli infortuni, in particolare sul ginocchio andremo ad analizzare tutti i gruppi muscolari che fanno parte delle cosce e delle gambe e questo è per il primo giorno. Poi ovviamente con la preparazione andremo ad aumentare tutti i carichi di lavoro e andremo a incentrare soprattutto, magari anche in maniera specifica per ogni ruolo di ogni calciatore, qualcosa di più preciso e personalizzato. Siamo con Luigi Lecis, dirigente della prima squadra. Luigi, quali sono le sensazioni del primo allenamento della stagione? Le sensazioni mi sembrano buone perché abbiamo una buona risposta. Ci sono 20 ragazzi e ci sono parecchi ragazzi nuovi che arrivano da varie società e penso che abbiamo iniziato bene come primo giorno. Quali sono i traguardi di quest'anno? I ragazzi ci sono tutti o deve esserci ancora qualche acquisto? Allora, per quanto riguarda i traguardi, pensiamo di fare la stessa annata dell'anno scorso. se riusciamo a far meglio e i ragazzi ci sono tutti e la rosa l'abbiamo quasi del tutto completata. Forse due o tre ancora sono in forse, però siamo a buon punto.